In peggioramento nella settimana 14-20 aprile in Calabria l'indicatore relativo ai casi di Covid-19 attualmente positivi per 100.000 abitanti mentre si registra una diminuzione dei casi rispetto al dato analogo della settimana precedente e quanto si rileva dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe relativo alla situazione della Regione che propone anche l'analisi sull'andamento della pandemia da Covid-19 e sulle forniture e somministrazioni dei vaccini, consistente la pressione sulle strutture ospedaliere, sopra la soglia di saturazione e infatti l'occupazione dei posti letto sia in area medica 50% che in terapia intensiva 31%. La percentuale di popolazione calabresi che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,1% a cui aggiungere un ulteriore 7,7% solo con prima dose. Nella categoria over 80 la percentuale di soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale è pari al 44,5% a cui aggiungere un ulteriore 21,5% solo con prima dose. Per la popolazione compresa nella fascia di età 70-79 anni la percentuale di persone che hanno completato il ciclo vaccinale è pari al 6,1% a cui aggiungere un ulteriore 21% solo con prima dose. Nella fascia di popolazione tra i 60 e 69 anni l'1,8% ha completato il ciclo vaccinale, a questo dato va aggiunto un ulteriore 6,2% solo con prima dose. Sono 402 in più rispetto a ieri le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.872 tamponi eseguiti. Dall'inizio delle emergenze i decessi sono 967 più 9 rispetto a ieri, i ricoveri sono 511 meno 12 rispetto a ieri, dei quali 44 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono così suddivisi Cosenza 126, Catanzaro 80, Crotone 64, Vipo Valencia 24, Reggio Calabria 108. Gli attualmente positivi sono 14.235. Abbiamo la necessità di cogliere la presenza importante dell'imprenditoria nazionale e internazionale per parlare di Ulisse. Chi è Ulisse? Il ponte sullo stretto, da oggi lo chiameremo così. Lo ha detto il presidente della regione Sicilia, Nello Musumece, a Catania, in conferenza stampa col governatore della Calabria Nino Spirli e l'amministratore delegato della WeBuild Pietro Salini, sul tema grazie ponte sullo stretto, l'opera possibile e necessaria per l'Italia e per l'Europa. Noi siamo stanchi di essere considerata periferia d'Europa. Noi vogliamo diventare il cuore del Mediterraneo, la piattaforma naturale per le navi che attraverso il Mediterraneo. Non è possibile diventarlo se non c'è l'alta velocità, non ci può essere alta velocità se non si attraversa in tre minuti lo stretto di Messina. Ecco, questo è l'appello che io lancio al governo. Noi siamo stanchi di essere considerati marginali rispetto al continente europeo. Il governo Draghi è un governo di emergenza per situazione di emergenza e Calabria e Sicilia rivendicano il diritto di sapere di cosa si vuole fare di Ulisse nel ponte sullo stretto, ha detto il presidente della regione siciliana. Basta con i rinvii, ci dicono se le due regioni sono ancora continente europeo. Altri non hanno il nostro coraggio, probabilmente non ci hanno creduto. Le nostre due regioni sono l'Europa e l'Europa ha l'obbligo di creare Ulisse, il mondo nuovo dove si decide il destino del resto del paese, ha detto il governatore della Calabria Nino Spirli. A noi, ha detto Spirli, rimproverano la delinquenza. Ma avete mai sentito parlare di mafia cinese, nigeriana o orientale? Non sono nata a Palermo o a Catanzaro. Ora basta, noi crediamo in Ulisse e deve prendere vita dentro l'Europa. Siciliane e calabresi sono i popoli maggiormente rappresentativi del continente. Questo è un ponte tra territori europei. Fino a quando noi continueremo a cadere nella trappola e di farlo considerare un ponte tra due regioni periferiche del meridione d'Italia, è come se veramente lo allontanassimo dal valore che invece ha. Noi uniamo i primi due territori europei che in questa nuova concezione del mondo moderno bisogna avere dell'Europa stessa, del continente europeo. La pandemia ha messo in ginocchio tutta la società, ma in particolare i più deboli e chi non ha voce per farsi sentire. Noi intendiamo dare assistenza materiale e psicologica a tutti quei ragazzi e alle loro famiglie che hanno subito l'emarginazione imposta dalle chiusure delle scuole. È quanto dichiara l'assessore all'istruzione, università, ricerca scientifica e innovazione della Giunta regionale Sandra Savaglio in merito all'avviso pubblico a scuola di inclusione in preinformazione che prevede interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del Covid-19 e all'integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali. Il nostro intento, prosegue, è quello di far capire che è nostro dovere non lasciarli soli e non farli sentire dimenticati. La Calabria è la prima regione in Italia che si rivolge agli ultimi con un'azione di queste dimensioni, volta ad affrontare i danni del Covid e del post-Covid, le cui conseguenze oggi non sono ancora per niente note. Finalmente è stata ripresa la discussione su Antica Croton. Questa mattina abbiamo trovato una nuova via e la prossima settimana ci incontreremo per far ripartire un progetto che era stato abbandonato da troppi anni. E' quanto afferma il presidente della regione Nino Spirli al termine della riunione tecnica che si è svolta nella cittadella Iole Santelli di Catanzaro dedicata al progetto Antica Croton. I direttori generali, sostiene ancora Spirli, erano presenti per rimodulare il progetto e finalmente farlo partire. Crotone oggi ha un grave deficit ed è quello che è portato purtroppo dall'inquinamento ambientale, per cui anche progetti come questo, molto complessi, molto importanti, purtroppo patiscono la presenza degli agenti nocivi che ci sono sotto il terreno tra la Crotone di oggi e la Croton che sta riposando sotto la terra. Per poter portare alla luce quella Croton, un progetto molto importante, noi dobbiamo tenere conto di una fase che è quella che è condizio sine qua non. Se non risolviamo la fase di bonifica non possiamo arrivare a portare quei tesori fuori e finalmente farli conoscere. Stamattina abbiamo trovato una giusta via e nella settimana prossima ci incontreremo per dare finalmente la stura a questo progetto che da troppi anni, da troppo tempo è stato o abbandonato o malamente trattato. Come da noi richiesto la scorsa settimana abbiamo incontrato il Ministro della Salute Roberto Speranza per discutere della grave emergenza sanitaria calabrese, lo affermano tutti i deputati e i senatori calabresi del Movimento 5 Stelle, PD, Lega, Forza Italia, Libri e Uguali e Italia Viva che sostengono il governo Draghi. Il confronto, sostengono, è stato utile ad attivare un canale permanente di interlocuzione con il Ministro Speranza ricevendo l'impegno a sbloccare celermente i primi 60 milioni di euro previsti per il 2021 dal decreto Calabria all'interno dei lavori della conferenza Stato-Regioni e la sua disponibilità a venire di persone in Calabria per verificare le condizioni delle criticità esistenti. Durante l'incontro sono state esposte ancora una volta le diverse difficoltà gestionali della salita in Calabria. Si è dunque sottolineato, dicono i parlamentari, l'opportunità che il governo concentri le proprie azioni in merito alla sanità calabrese su alcuni specifici obiettivi, ovvero l'ampliamento del personale sanitario con l'indizione di concorsi in tempi rapidi, la revisione della rete ospedaliera, l'azzeramento del debito e l'aumento dei posti letto dedicati ai degenti Covid. Sittini per una nuova stagione del comparto forestale calabrese sabato 24 aprile davanti a tutte le prefetture a partire dalle 10. Lo annunciano i segretari generali regionali di Fai Cisli, Michele Sapia, Fai Cigel, Bruno Costa e Willa Will, Nino Merlino, che manifesteranno insieme ai lavoratori dinanzi alla prefettura di Catanzaro, dove si terrà anche una conferenza stampa. Con l'iniziativa di sabato, proseguono, vogliamo porre all'attenzione delle istituzioni, delle forze politiche e dei cittadini questi temi centrali per il futuro della Calabria. Se le rivendicazioni del sindacato unitario non vedranno ascoltate e accolte, sottolineano ancora Sapia, Costa e Merlino, l'azione di Fai Cisli, Flai Cigel e Willa Willa a fianco dei lavoratori, proseguirà con ulteriori iniziative. Ai prefetti delle cinque province calabrese sarà consegnato un documento contenente le priorità e le rivendicazioni al centro della manifestazione. È stato pubblicato il bando del PSR Calabria 2014-2020 relativo alla misura 14 benessere degli animali, intervento 14-0101, pagamenti per il benessere animale, che schiude la via alla presentazione delle istanze di aiuto rispetto alle annualità 2021-2022, anche da parte delle aziende fin qui escluse dall'accesso alle risorse di cui al bando pubblicato nel 2016, due settimane fa prorogato per altre due annualità. Come da impegni assunti col mondo della zootecnia, sottolinea l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, abbiamo inteso offrire un sostegno ulteriore al settore stanziando altri 8 milioni di euro per il biegno 2021-2022, per dare così la possibilità anche alle aziende, non finanziate dal bando del 2016, di fare affidamento sulle risorse comunitarie. Chiediamo un incontro con la massima urgenza al fine di rappresentarle la fase drammatica che stanno vivendo la nostra struttura, le famiglie dei nostri dipendenti e soprattutto le migliaia di pazienti che al Sant'Anna aspettano di trovare risposte sanitarie di massima eccellenza. E' quanto affermano in una richiesta avanzata al prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta e per conoscenza al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il CDA e i responsabili sanitari del Sant'Anna Hospital. L'incontro con la massima espressione dello Stato sul territorio scritto nella lettera non è più riviabile, seppur auspicato da tanto tempo anche alla luce delle terribili notizie apprese sulla posizione della Commissione straordinaria dell'Asp che sarebbe intenzionata ad assumere nei confronti del Sant'Anna. Si è appreso di una totale immotivata volontà di non procedere alla contrattualizzazione. Ciò significherà non garantire lea e provocare enormi disagi alla popolazione calabrese con preclusione del diritto alla salute per molti. Inanzi a questi fatti, che stravolgono ogni certezza di diritto e di programmazione in materia sanitaria, si chiede, conclude la lettera, un urgente incontro alla presenza del commissario ad acta dei sub-commissari della sanità in Calabria. Proprio oggi a Catanzaro il prefetto Maria Teresa Cucinotta ha tenuto una riunione con i commissari dell'Aspi di Catanzaro e il commissario alla sanità Guido Longo a seguito della decisione dell'azienda sanitaria di non sottoscrivere il contratto per il 2020 con la struttura cardiochirurgica che è a rischio chiusura. Un ragazzo di 20 anni di Roggiano Gravina è morto durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale annunziata di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, il giovane è in isolamento domiciliare perché positivo al Covid avrebbe accusato un malore mentre si trovava a casa, i familiari hanno allertato il 118 e sul posto è subito intervenuto un'ambulanza. Le condizioni del ventenne, nonostante i tentativi posti in essere dai medici dell'ambulanza, si sono aggravate ed il ragazzo è morto poco prima di arrivare in ospedale. Grazie a tutti.